Ignazio e Cecilia tornano a casa e Ignazio prepara la cena, rigatoni con il ragù, saranno buoni? Ehi, 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 hai iniziato a mangiare? No, ho avuto una risarata e una vendita. Questa buona pasta al ragù che ho cucinato io? Sì, voi ti chiami Carla? No, la Carla mi ha preparato l'inizio e poi io l'ho terminata. Esatto, nel microonde. Anche a Nino piace, vero? Ma non è il tuo posto questo. Eccoci qua, finalmente siamo arrivati a casa. Dopo 50.000 ore di treno siamo arrivati. E guardate che fortunata che sono, qui c'è un luogo che mi cucina pure. Fortunatissima, sei un fortunato. Ma che è questa cosa che tu ti... No, no, io basta, non voglio più niente. Seconda cena nella nostra serra. In questo tavolo meravigliosi queste sedie che vi avevo promesso che vi faccio vedere un po' tutto e vi raccontavo sulla nostra scelta. Gli riflessi, vi faccio vedere in questi giorni perché sono... Sono cotta. Quindi oggi a dormire presto a tutti. Ignazio cucina perché al massimo Cecilia gli preparo una cotoletta surgelata. Buon appetito e bravo Ignazio. Grazie a tutti.